Che deve attaccare Terrazzani, legge, pregare equilibrio, anche a lui! Gaia, Gaia il fronteggiatore ha visto la sanna, si accontenta di giocare a tre punti, realizza Gaia! Ed, scarica per Villa, altro scarico, ragione a tre punti, e il suo tiro è realizza! E allora, questo è il risultato finale, amiche ed amici all'ascolto, l'amatori Pescara supera la Virtus.arich Salerno, 86-96, la serie si sposta proprio in Abruzzo, domenica ci sarà il terzo atto e ne vedremo sicuramente delle belle!